La prima domanda è ovviamente di rito. Perché il Consiglio regionale della Puglia ha deciso di patrocinare il Buon Pescatore Italiano? Perché abbiamo ritenuto che la iniziativa avviata dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, d'intesa con il Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007-2013, è un'iniziativa di grande interesse perché ha più possibilità di essere letta e valorizzata. C'è innanzitutto questa valorizzazione dei prodotti della nostra pesca, quindi l'iniziativa che valorizza soprattutto il pesce azzurro, che va incontro anche per i costi alle esigenze delle famiglie che sappiamo sono in difficoltà. Sappiamo che il pesce azzurro è di ottima qualità e fa molto bene perché è ricco di Omega 3. È un'iniziativa che, puntando sulla valorizzazione del lavoro degli addetti alla pesca, non solo sostiene le nostre marinerie, ma nel contempo è impegnata la difesa del nostro mare, dall'Adriatico e dello Ionio. Come è noto la Puglia da anni è leader nazionale nella tutela del nostro mare, della nostra costa, difendendo l'Adriatico e lo Ionio dalle incursioni delle compagnie petrolifere che vorrebbero portare al dissesto del mare, al dissesto della flora e della favola marina e soprattutto negando alle nostre regioni, soprattutto alle regioni del mezzogiorno, di poter avere marinerie sempre impegnate nella pesca e soprattutto negando alle nostre regioni un futuro basato sullo sviluppo del turismo. È difficile fare il bagno di fronte ad una piattaforma petrolifera. Ecco, queste cose messe insieme, quindi la difesa e la valorizzazione del pescato nei nostri mari, la valorizzazione e la diffusione dell'uso e del consumo del pesce azzurro, la difesa dell'Adriatico e dello Ionio dalle incursioni delle multinazionali del petrolio sono essenzialmente i motivi per i quali la Puglia si è schierata e difende e ha dato il patrocinio a questa manifestazione. Presidente, io la ringrazio per la sintesi e ovviamente vorrei cogliere l'occasione per annunciare con lei la rassegna gastronomica del buon pescato. Qui vede la nostra maglietta su un italiano tipico, fresco e sano. Il nostro pesce è 100% tipico, 100% fresco, 100% sano, quindi invitiamo i cittadini pugliesi a raggiungerci a Bari. Lo faccia lei. Se mi sta stretta questa maglietta, questo è il motivo che io devo mangiare più pesce azzurro perché farò una dieta sana e perderò qualche etto e quindi la maglietta la potrò indessarla comodamente. Fatelo anche voi. Grazie al Presidente Introna e io raggiungo l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni.